E ti pare che non cercava la mamma? Francesco, non hai niente. È solo un graffio. Il dottore ha detto che è stata più che altro la paura. Dormi. Chi sei? Ma ti rendi conto? Ma si può andare avanti così? Mamma, mamma dove sei che non ti vedo più? Ecco, è meglio. Io sto male. E allora mamma tua ti guarisce? Perché da questa stanza o esci morto o usciamo in tre. E allora? Grazie a tutti.